ciao bambini sono elmer l'elefante variopinto venite con me a leggere la mia storia il concerto di elmer elmer stava suonando tutto felice la sua proboscide come una trombetta e non si accorse che stava arrivando suo cugino wilbur e wilbur che era sempre in vena di scherzi gli tirò una palla colorata elmer fece un salto per la sorpresa poi rise a che cugino giocherellone sai mi stavo allenando a suonare la proboscide spiego elmer a wilbur vorrei formare un'orchestra che idea carina disse il cugino sussurrando io però non posso aiutarti sono molto raffreddato beh si vedrà sorrise elmer i due continuarono a camminare nella giungla facendola rimbombare con i loro passi pesanti presto trovarono leone che dormichiava steso su una roccia ciao leone gli disse elmer stiamo cercando dei musicisti per formare un'orchestra ti piacerebbe unirti a noi e leone rispose di sì con un allegro ruggito bene allora raggiungimi nella radura quando mi sentirai suonare la proboscide esclamò elmer poi incontrarono le scimmie buongiorno disse elmer che ne direste di suonare nella nostra orchestra le scimmie furono entusiaste della proposta e promisero che avrebbero raggiunto elmer nella radura anche noi vorremmo far parte della vostra orchestra cinguettò un uccellino e si mise a cantare con tanti altri uccellini siete piccoli ma insieme fate un bel coro disse elmer quando mi sentirete suonare la proboscide correte alla radura arrivati al lago videro coccodrillo non penso che i coccodrilli sappiano suonare sussurrò wilbur ma coccodrillo sorrise o davvero e cominciò ad aprire e chiudere la bocca facendo battere i denti clic clac ma è fantastico rise elmer vediamoci alla radura mentre attraversavano lo stagno si mise a cantare anche rana bella voce le disse elmer vuoi far parte della nostra orchestra certo sarà divertente rispose rana quando elmer raggiunse la radura era l'ora giusta per cominciare le prove e cominciò a suonare la sua proboscide come una trombetta gli altri animali cominciarono ad arrivare e tu wilbur chiesero le scimmie non suoni no wilbur non poteva perché era ancora raffreddato ma elmer sorrise forza cugino facci vedere che cosa sai fare wilbur per un momento non capì poi sorrise e si mise a correre con i suoi passi pesanti forti come colpi di tamburo visto la nostra orchestra ha bisogno dei piedi di wilbur esclamò elmer elmer aveva ragione e quando il concerto cominciò tutti suonarono e cantarono meravigliosamente fine ciao bambini ciao